Ritorno con arte mistica, non mi sono fermata un pochino in questo periodo ma per altri impegni come magari avete potuto vedere anche la creazione della Via Crucis e di altre opere che poi man mano verranno magari anche presentate perché credo anche proprio per i testi a cui attingo meritano assolutamente di essere conosciuti e io mi auguro davvero che la gente cominci a cibarsi di queste parole, di questa arte, di queste immagini perché si distaccano completamente da un qualcosa di artistico così negativo del nostro tempo sia con gli iscritti che non sono miei ma sono del Don Giorgio, dei Capitani che con appunto le mie rappresentazioni si vuole andare oltre e non a caso ho deciso di fare qualche video perché in uno diventerebbe troppo lungo qualche video su un pittore che mi piace veramente tanto che ho scoperto e che poi non si finisce mai di scoprire ed è il Beato Angelico attraverso il Beato Angelico si può davvero arrivare a capire cos'è anche l'arte Beato Angelico che è del periodo del 1395 circa e muore nel 1455 quindi siamo nel primo rinascimento e siamo anche in un momento in cui la mistica medievale ha lasciato una determinata impronta e quindi molto importante non posso dire che il Beato Angelico fosse un mistico un frate pittore mistico però posso dire che probabilmente delle influenze c'erano almeno a mio avviso perché quello che è sconvolgente e che è bellissimo da notare nei suoi dipinti è proprio questo dettaglio immutabile che è la luce e la luce lui la materializza come in raggi dorati è una luce diffusa perché è una fonte per lui immensa e questo lo possiamo anche dedurre che è una luce che lui vede e fa uscire da dentro e che prende dalle sue letture, dal suo credo, dalla sua fede e lui questa fede, questa capacità nel tradurre le parole in immagini ecco perché le vediamo in questi suoi grandi capolavori e diciamo che è proprio delle visioni che lui tramuta in arte e è un trascrivere anche le visioni di Dio, le parole di Dio e questo è un lavoro immenso di immensa bellezza che questo frate Beato Angelico fa e è proprio un maestro della luce è un maestro della luce e sarà anche poi di ispirazione a molti pittori che verranno dopo come per esempio Piero della Francesca e Michelangelo e Beato Angelico nella sua bellissima semplicità nella sua purezza ecco che quando si guardano i suoi dipinti e questo ci tengo veramente a sottolinearlo è come se bisognasse essere totalmente puri, leggeri, puliti perché lui è questo quello che ci chiede è questo il messaggio anche che ci arriva e proprio la bellezza che si vede ma la bellezza divina, quella scritta con la B maiuscola che traspare e che ci viene a noi ecco che poi continueremo questi video andando avanti e aggiungendo sempre qualche particolare in più di questo grandissimo pittore del primo rinascimento italiano